Perla Vatiero Sconcertata dalle dichiarazioni pesanti di Beatrice Luzzi Prima di raccontarti cosa si sono dette le due ex star dell'ultima edizione del Grande Fratello, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie per il supporto Perla Vatiero ha recentemente rivelato in un'intervista di essere rimasta particolarmente delusa dopo aver visto un video in cui Beatrice Luzzi usava parole forti e pesanti per descriverla. Infatti Beatrice Luzzi ha dichiarato, con tono dispregiativo, che Perla Vatiero è la regina del trash. La giovane di 26 anni, oltre al fatto di essere rimasta delusa dalle dichiarazioni di Beatrice Luzzi, ha anche condiviso di essere interessata all'idea di intraprendere una carriera nel cinema, ma al momento non ha intenzione di partecipare a nuovi programmi televisivi. Nell'intervista Perla Vatiero ha parlato della sua vittoria inaspettata al Grande Fratello, ma anche di come alcune dichiarazioni fatte da ex coinquilini l'abbiano ferita una volta fuori dalla casa. In particolare, si è soffermata sulle parole di Beatrice Luzzi, che nel video a cui si fa riferimento la definiva in modo non lusinghiero. Sicuramente mi ha infastidito un video molto pesante che non avevo mai visto prima in cui Beatrice diceva che non vedeva l'ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, con la bulletta. Ovviamente si riferiva a me. Perla ha espresso disagio per le parole di Beatrice, sottolineando che quest'ultima sembrava intimorita da lei nonostante il suo accanimento verso gli altri concorrenti. Ha anche evidenziato che, nonostante le sfide proposte da Beatrice, alla fine è stata lei a perdere il presunto duello. Riguardo alla possibilità di partecipare a nuovi programmi televisivi, vatiero ha dichiarato di essere ancora in una fase di riequilibrio della sua vita dopo il Grande Fratello. Ha espresso interesse nel cinema e nel mettersi in discussione attraverso lo studio, ma ha escluso la possibilità di partecipare all'Isola dei Famosi in questa edizione a causa delle sfide fisiche più impegnative rispetto al Grande Fratello. Grazie a tutti.